Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo su Slenderman Shadow Shadow, vabbè La volta scorsa avevamo fatto Elementari che mi guardava stranamente la mia vecchia scuola, non si sa perché Oggi facciamo MENZION Perfetto ragazzi, siamo a casa dello Slenderman, ci ha invitato a cena Non so che cazzo era, non chiedete, non so che cazzo, allora, allora, scusate, prima di tutto Bisogna raccogliere strumenti, non vorrei che avessero cambiato perché nel primo fatto di Slenderman Bisognava raccogliere degli oggetti, non vorrei che avessero cambiato e la sensibilità è troppo alta Mi adatterò Ah no, ok, perfetto, 12 oggetti non hanno cambiato, gg E' la per pena E' la per pena, per cui ho detto questo C'era una nuova di candela? Sì Bottiglia di vino Vabbè Comodino Vabbè, dove usciamo? Unitato a queste le taglie C'è un cazzo, un cazzo è niente Adesso tipo mi giuro di scappare Si va giù, non vorrei andare giù, però Bisogna trovare tipo una chiave Ehi, la pepe Ah, ecco la padella Cazzo deve fare le padelle Deve cucinare Un letto Dai Ma una patassetta Ma tranquilla, come cazzo? Sono due minuti di video Ma c'ha preso No, non ci credo Ma Dei cagliani Dei famo? Allora Vabbè essere guarda No, niente Stavo scherzando Non sia pancacchio Il nostro personaggio è già stanco Perché ovviamente mangia Troppi panini Allora C'è il telefono nella caldaia Non si sa che cazzo ci fa Ma va No, c'è un po' Qui è dove va Ma poi Presultiamo Sto Più appena Sto Poi Qui C'è un cacchio Ugazzo Giù ugazzo buono E' la pena E' stati buono Oh, la padella Ok Bene Ok, no Giù non ho proprio Adesso no C'è un cazzo C'è un po' C'è un po' C'è un po' Gli angoli Mamma mia Che ansia C'è qualcosa Nope C'è qualcosa Nope Ah Ma è sfottuto Sender Ma è sfottuto Si sfatte la gente Ah, ho spiegato io Qui Qui Allora qui c'è la scala Ma ci serve La chiave Ah no, è aperta Ma che perché non trovo chiavi Goal Allora Lascia proprio Proprio Splendor Lascia Le porte aperte Calma ragazzi Vada calma Si fa tutto Questo ricordo Ok Ma no Perché Non lo ritrovo davanti Da un momento all'alto Perché Ma perché Ma perché Ma perché Non te ne vai via mai Non cazzo Che cosa è sta Roba qua Ah Lasci mi stare Lasci mi stare Non ho fatto niente Solo prendere gli oggetti Mi lasci stare Ho trovato una Ciambella Se me la fa prendere Sono molto contento Ok Ok Adesso non lo può Non so già Che mi prende Ah Oh Oh Que put*** N'amp worden Porr Plus Qu'est 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 Po Qu'est Qu'est te ne devi andare non so dove sto andando sono in una stanza da qualche parte raga devo scendere ok limo poca puttana toia madonna mamma mia ok ci siamo l'abbiamo seminato assurdo assurdo c'è una fottuta paura che mi spunta tipo davanti di prepotenza no eh 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 roselander matola eh pepina no eh qui ci sa qui qui qualche parte un labirinto assurdo madonna cazzo la pepina la pepina la pepina la pepina giù cazzo io urezzerlo eh ok gg becazzo se ne è infilato il pendolo ma il passetto su 12 più aroma adesso ora mi piglia ora mi prende è sicuro che mi pideva di sopra sta che pazzino mi è lasciato qualche cosa di sopra perché me ne mancano troppi e non so assolutamente dove sono questo è un piccolo problema spogliamo qui ma cosa avre ah eh forse è questa no neanche mo che vi fai che i slender luccicavano tu capivi che madonna mi sono spaventato dovevi prendere quello qui no che devi cercare cercare dove c'era la padella o allo oh ugatsi ma pò si di siamo non tutti non 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 c'ho voglia più Che fa paura Che sto facendo? Peppina No Ah! Cristo porco Ma sta lì tranquillo eh? F***a Qua Qua Ma lo so ritrovato Dio di p***a No che scherzavo eh Scherzavo E' lagga No madonna 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 Seconda Tranquillo la lagga Tu vuoi F***a 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 E' la peppina E' la peppina Della Mallorca Ci siamo levati di intorno C'ho sbagliato strada Chiedi Ci siamo a morto Ragazzi siamo Ma la peppina Quanti siamo? Quanto siamo? Raga Raga Quanti siamo? Non si può uscire Oh No Bisco 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 sono a 9 non siamo a 9 vedi dai per favore sanità mentale se n'è andata stati buono e qui infatti un po' di dietro ci sono stati beh c'è un ramassi tranquillo calma colmo l'acqua quando vuoi quanto vuoi siamo a 10 è già qualcosa siamo a 10 siamo a 10 è già qualcosa questo è l'episodio il più lungo dislanding che abbia mai fatto non so 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 ma no la pebbina no eh nope la cosa non va bene questa cosa non va bene ah uff mi esplode Ok Ci siamo Madonna Raga Raga Non ho Non ho più una vita Ci sono passate le bufie Ci sono passate le bufie Madonna Madonna La pianta Per favore Ti prendo da Michael Dai Manco Manco avesse fatto Lo sfratto del mese Da Non so cosa c'è La pepina Ma c'è più un cazzo Un cazzo Sono usciti Mi sono usciti Beh basta la gara Ok Ci sono esplodato tutto In una parte Ci sono esplodato tutto Tutto Un cazzo Ma non c'è più niente Vigano Ma ho saltato qualcosa Da qualche parte Quella pepina Qui ho preso Cazzo Ci sono Il muore la presa La presa muore Ok basta così Ok ragazzi Questo episodio è tutto Se vi è piaciuto il video come al solito lasciate un mi piace Un commento e un'iscrizione E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi